Vi sto presentando coloro i quali nella auspicata ipotesi in cui io diventi il sindaco di Taranto saranno gli assessori della mia giunta. Una operazione, la mia, del mio movimento Taranto senza ilva, all'insegna della trasparenza, della linearità nei confronti del cittadino. Una operazione di lealtà, tu devi sapere chi sarà l'assessore ai lavori pubblici, chi sarà l'assessore all'ambiente, perché poi in base a quel soggetto, a quel programma, a quei progetti che quella persona ti presenta, tu cittadino valuti se accordare al mio progetto, alla mia persona, la fiducia o meno. Siamo con l'architetto Luca Lopatriello che ho designato come assessore ai lavori pubblici, all'urbanistica, all'edilizia, al patrimonio, al risanamento della città vecchia, alle opere pubbliche in una espressione, diciamo così, di sintesi, sintetizzante. E quindi varie tematiche appunto che stiamo affrontando con lui. Oggi vogliamo parlare degli interventi, perché noi possiamo parlare di programmi, di tutto quello che volete, però è importante focalizzare l'aspetto, l'attenzione sugli interventi. Grazie Luigi. Abbiamo parlato in un altro intervento della questione dei pilastri fondamentali per poter creare quel terreno fertile, quel terreno stabile, su cui andare poi a fare gli interventi. Gli interventi per Taranto hanno per me un triplice aspetto. Sono interventi che tendono a sciogliere vecchi problemi, risanare le vere grandi ferite e questo per me sarà una priorità. E insieme a questi ci devono essere grandi progetti, ambiziosi, perché Taranto può anche cambiare, nel senso che si possono fare opere a Taranto importanti, anche di valenza architettonica. Perché no? Ambiziosi e grandi non nelle cubature, grandi nel senso che chiediano qualcosa che a Taranto manca, chiediano un valore aggiunto alla città. E questo non si può fare nella prima o nel secondo punto se non andiamo anche a, contemporaneamente, ripeto, a sanare quelli che sono i piccoli, quotidiani problemi che ha la città. Quindi i livelli sono tre. Risanare le periferie, i quartieri, creare, e adesso ne parlerò perché tengo molto questo, quasi un desiderio per Taranto, creare un laboratorio di progettazione. Adesso dico anche la valenza e il perché bisogna farlo, è necessario. E quindi, contemporaneamente a questi lavori, dedicarsi anche alla città, ai problemi quotidiani che sono quelli che ci rendono la vita difficile. Alla fine, voglio dire, un grande progetto. La buca, il marciapiede rotto, la strada non illuminata, quelle piccole cose che poi tanto piccole non sono. Benissimo Luigi, il grande progetto lo vediamo una volta alla settimana, dove andiamo a Taranto, che bello, ma dobbiamo combattere ogni giorno con le difficoltà. E' chiaro, i nostri committenti, i tarantini, devono avere ben chiaro che la città non deve essere per i normodotati, la città deve essere per tutti. Quindi staremo molto attenti a fare ecco, non percorsi assurdi o piste ciclabili o cose che effettivamente possono servire, bisogna vedere come le si fanno. Bisogna badare anche ai pedoni, alle persone con scarsa mobilità, che hanno difficoltà, perché è chiaro che non siamo tutti normodotati e dobbiamo dare la possibilità a tutti di godere della città. E poi anche a fare quelle manutenzioni giornaliere, perché non si possono demandare una volta all'anno, sono quasi giornaliere. Bisogna avere, scusami Luigi, una programmazione su questi lavori. Ecco, finisco ancora, poi voglio dire, questo ci tengo, è quel lavoro di progettazione. Perché questo? Perché parleremo poi più in là dei fondi, dei soldi che arrivano, che bisogna in qualche modo veicolare nelle opere. E ho paura che se non abbiamo un ottimo laboratorio di progettazione, se non abbiamo i nostri progetti sempre riferiti a quella visione della città, quindi collegati, connessi, abbiamo una visione, abbiamo dei progetti che vogliamo portare avanti. Se non abbiamo i progetti nel cassetto, Luigi, quando arrivano i fondi? È già tardi a partire. Cioè, quando arrivano i fondi? Non si può ricercare nelle mission del fondo che sta arrivando, parlo del PNR, cosa possiamo fare. No, la visione di Taranto globale, a noi deve dire, Taranto deve essere questa. Quando arrivano i fondi, li dedichiamo a progetti che dovremmo già avere. Il laboratorio è fondamentale. Perché se lo rischiamo, che per poter prendere i fondi, di fare quei piccoli lavoretti, quelle cose che alla fine sono scollegate da quella visione globale e, a mio avviso, questo è importante, devo dirlo, ed è successo, procurano degrado. Mentre si crede che si sta togliendo degrado la città, se ne sta invece aggiungendo dell'altro. Lavori che non servono a niente. Ecco, volevo proprio aggiungere, parlando della ordinaria amministrazione, degli interventi ordinari, proprio l'idea di realizzare uno sportello, io l'ho chiamato SOS Taranto, un pronto soccorso, un pronto intervento per andare, attraverso una raccolta immediata di segnalazioni, in tempo reale, di intervenire rapidamente. Cioè noi abbiamo delle situazioni incancrenite che si potrebbero risolvere in un batter d'occhio, in due o tre ore di lavori. Penso a, ecco, la signora Maria, l'uomo della strada, dice ma quel marciapiede rotto, quella buca, quanto ci vuole a ripararlo? E intanto, purtroppo, quando quella situazione rimane incancrenita per mesi, se non per anni, la gente cade, la gente ha disagio. Ecco, quegli interventi che, in un batter d'occhio, ecco, anche la praticità degli interventi. Voglio aggiungere che questi interventi non sono banali, non stiamo dicendo questo, anzi, sono fondamentali. In alcuni casi una buca può provocare qualche centinaia di euro in riparazione di gomma, ma se parliamo di periferie, di mancanza della luce, quelli possono essere luoghi in cui notoriamente si spaccia, notoriamente i nostri bambini, i nostri figli possono andare a incontrare il male, che purtroppo c'è, c'era anche quando noi eravamo ragazzi, però, ecco, all'epoca, forse l'illusione che tutto andava bene, il boom economico, anni 80, voglio dire, c'era quello, ma c'era anche tanto altro. Adesso i ragazzi, ecco perché, io ripeto, in questa mia missione non tollerò mai lo sguardo dal Tarantino, perché per me in tutto quello che faccio, o che faremo, che faremo insieme e speriamo, è il Tarantino che ne deve usufruire. E soprattutto anche i ragazzi. I ragazzi di Taranto hanno tanti problemi, tanti problemi, perché la loro città non è vista bene, perché la loro città è degradata, è una città degradata, è una città scura, porta degrado anche dentro le persone, non hanno stimoli, non vedono un futuro. Io sono andato via perché devo ringraziare i miei genitori di avermi dato la possibilità di farlo, ma chi rimane qua non può essere inferiori a chi la sua vita la prende in mano e la porta avanti. Questa possibilità dobbiamo parlare a tutti. L'architettura, le opere hanno un grande valore sociale, grandissimo. Su questo dobbiamo insistere.